salve a tutti pronti per un nuovo giveaway partecipare è semplicissimo basta iscriversi al canale e lasciare un commento sotto questo video entro l'otto marzo lasciando anche la vostra email così posso contattarvi in caso di vincita perché ho scelto l'otto marzo perché la festa della donna siete molte le donne a seguirmi anzi siete la maggioranza così ho pensato di ringraziarvi creando per voi una wish list ovvero una lista dei desideri si sa noi donne abbiamo una lista infinita di desideri e ho fatto questa creazione proprio per evitare di dimenticare qualche desiderio per strada questa è la copertina potete sia appenderla oppure appoggiarla sul tavolo sulla scrivania dove meglio preferite voi e questo è l'interno trovate tante tag da applicare nelle varie pagine e quando volete segnare qualcosa in particolare oltre alla wish list riceverete anche una busta a sorpresa cosa ci sarà dentro il vincitore lo scoprirà potete anche condividere con i vostri amici questo giveaway magari nelle vostre pagine facebook o nei vostri blog non è un obbligo ma se vi va di farlo ne sarei felice questo è un giveaway internazionale quindi possono partecipare tutti e per coloro che non parlano italiano farò una traduzione in inglese hi everyone and welcome to my channel it's time for a new giveaway and this time is an international giveaway so everyone can participate to participate you have to submit this channel and leave a comment under this video until the 8th of March you can share this giveaway with your friend maybe in your facebook page or in your blog but you are not obligated to do this if you like you can share you can win this wish list and a surprise bag is full of what oh I don't know it's a surprise so the winner the lucky winner will discover the prize so good luck to everyone and bye bye quindi buona fortuna a tutti e a presto ciao ciao